la gioia di essere prete fu proprio qui davanti all'altare della madonna del rosario che l'otto giugno 1841 don bosco celebrò la sua terza messa gli fu vicino in quel momento così intenso l'antico professore il domenicano padre giusiana che stette con lui per tutto quel giorno di paradiso gli univa una grande amicizia grazie al suo intervento il giovane studente giovanni bosco era riuscito a superare l'esame di promozione alla classe quarta ginnasiale aveva infatti rischiato la bocciatura per avere passato il suo compito ai compagni padre giusiana gli ottenne un nuovo tema giovanni lo svolse bene e fu promosso a pieni voti